Cento anni dopo l'epidemia di Spagnola, nonostante i progressi della tecnologia, le armi messe in campo contro il Covid, se si escludono naturalmente i vaccini, sono rimaste le stesse, mascherine e distanziamento. All'interno degli ambienti chiusi a temperature medio-basse, il Covid permane a lungo nell'area in forma di aerosol, provocando le ondate di contagi a cui stiamo assistendo. Eppure gli strumenti tecnologici per abbattere il virus presente negli ambienti esistono. Noi abbiamo affrontato questo problema e abbiamo scoperto che questo virus, tutto sommato, è abbastanza ben ambientato sul nostro pianeta, perché si trova a rimanere attivo sotto forma in aria, cioè come aerosol, cioè 10-15 gradi di temperatura e un'umidità relativa non particolarmente alta. Il virus si aggrappa a delle particelle di pulviscola, molecole di aria e viaggia con questa e rimane in sospensione. Quindi, gli ambienti chiusi in cui non c'è via di fuga per queste parti di aria, il virus aumenta continuamente la sua concentrazione. Questo è il caso tipico delle scuole in cui si sta per ore e ore nello stesso ambiente. I docenti universitari di fisica e di ingegneria chiedono che all'interno delle scuole e dei mezzi di trasporto vengano installati impianti di ventilazione meccanica. In cento anni dal tempo della spagnola, qualche progresso le tecnologie non digitali l'hanno fatto anche loro e ci sono impianti che possono in piena sicurezza introdurre aria esterna, consentire, estrarre quella d'ambiente. Queste tecnologie finora non ha, per ragioni diverse, non ha trovato sufficiente spazio. Incredibilmente, l'importanza di evitare il contagio tramite aerosol è stata a lungo negata dall'OMS. L'OMS ha commesso un tragico errore, negando esplicitamente che questa pandemia potesse trasmettersi, diffondersi per via aerea. Devo dire che io sono rimasto sconcertato dicendo che questo è il modo migliore per diffondere la pandemia. Grazie a tutti.